Buonasera, benvenuti amici sportivi a questo nuovo appuntamento, il quinto di, anzi il sesto, chiedo scusa, di questa ventiduesima stagione. Ancora con voi e questa sera, ancora una volta, riusciamo a portare a vostra conoscenza personaggi che non sono mai stati negli studi, salvo forse Mario che invece c'è già stato e me l'ha rammentato poco fa, magari ospite dello Sciclub di Schilpario. Con Michela Pizio e con il fratello Mario parleremo di un avvenimento che è avvenuto, scusate il gioco di parole, insomma una gara sportiva che è avvenuta, si è svolta circa un mese fa, 35 giorni fa, ed era la prima edizione, la vedete, vedete la locandina in sovraimpressione, la sgambada che con la DRZ sopra la O che insomma sta a significare sgambada o sgambada in dialetto. Praticamente si partiva da Schilpario, si arrivava al Passo del Vivione. Fra poco vi presenterò i nostri ospiti, ma soprattutto andremo a parlare di questa manifestazione, ma ancora prima a conoscere un po' tutta la storia del rifugio del Passo del Vivione che i genitori di Michela e Mario assieme a loro adesso gestiscono da ben 38 anni. Nella seconda parte ci sarà Roberto Amaglio, Roberto Amaglio è un collega, ieri era a Casazza a seguire, ci porterà anche delle immagini, a seguire la decima, nona edizione del Giro del Lago di Casazza. C'era Moser presente, tutti i professionisti di qualche anno fa insomma, perché voi sapete che lì c'è una gara a squadre e ieri si è addirittura battuto il record, c'erano 101 formazioni, vale a dire 400 atleti circa, che hanno partecipato a questi 22-23 chilometri intorno al Lago di Endine. Si partiva, si arrivava a Casazza e una cronometro a squadra, insomma. E c'erano tanti, tantissimi professionisti, fra i quali dico il più conosciuto che era Moser, ma c'era Tony Prim che è uno svedese, addirittura questo signore che qui in Italia è conosciuto, perlomeno tanti se lo ricordano ancora, è venuto dalla Svezia in macchina, affrontando un tragitto di 3.500 chilometri pur di esserci alla gara di Casazza. Ce ne parlerà però in dettaglio Roberto Amaglio, come ho detto che è un caro collega e anche un caro amico. E adesso in questa prima parte invece occupiamoci di questa manifestazione, questa prima edizione assoluta della Sgambada, chiamiamola così, che così naturalmente evitiamo qualsiasi accento e che praticamente ha portato circa una sessantina, essendo la prima edizione, non erano molti, però erano qualificati di atleti, a partire da Schilpario a salire attraverso i laghetti delle valli, come vengono chiamati, per poi arrivare al rifugio del Passo del Vivione. Vi presento i nostri ospiti, vedete Michela, Michela Pizio, e alla sinistra il vostro teleschermo Mario Pizio. Innanzitutto una precisazione, non è che a questi due ragazzi gli è venuto in mente così di organizzare questa gara così, semplicemente alzandosi una mattina. Siccome hanno un buonissimo rapporto con Mario Poletti, gli hanno detto dai Mario aiutaci a organizzare qualcosa per far conoscere anche questa valle, questi bellissimi luoghi che circondano il Passo del Vivione. Ecco, alcune immagini, qui vi ricordo siamo al Passo del Vivione a quota 1.800 e credo, se non vado errato, arrivando ai laghetti si sale sopra quota 2.000. Ce ne parlerà in dettaglio fra poco sia Mario sia Michela. Però adesso con Michela ci sembra giusto raccontare un pochettino la storia della famiglia Pizio al rifugio Passo del Vivione. 38 anni che il papà Gian Antonio e Marrica sono lì a ricevere e quasi tutto l'anno, perché so che la vostra stagione è abbastanza lunga, proprio perché la strada, insomma, certe volte se non nevica tanto tanto, resta aperta un po' di più, sono lì a ricevere e a salutare tutti coloro che passano di lì. Sì, buonasera a tutti, grazie per averci invitati. Sì, il rifugio è di proprietà della mia famiglia da 38 anni e noi siamo cresciuti lì e gli diamo una mano. Il rifugio apre dai primi di maggio, di solito, fino alla metà di ottobre, fine ottobre, siamo ancora aperti attualmente. Quest'anno purtroppo la stagione è stata un po' triste, con questo brutto tempo non ci sono stati molti turisti, è mancato un po' il passaggio dei motociclisti, dei ciclisti che amano molto fare questo passo solitamente. Certamente, certo, lo vorrei ricordare io, innanzitutto che questo è un crocevia fra la provincia di Bergamo e di Brescia ed è frequentatissima questa strada che sale dalla parte di là, c'è la deviazione dove, a Malonno, no? Dov'è la deviazione? Sì, a Porto Arlione. Scusami, ecco, esatto, so che è comunque lì vicino, c'è l'aviazione che sale al passo del Vivione e poi si arriva giù naturalmente a Schilpario ed è frequentatissimo, se non sbaglio mi chieda, soprattutto da motociclisti e soprattutto stranieri. Esatto, tedeschi, svizzeri, amano molto fare questi passi, arrivano dallo Stelvio e vanno verso il lago di Garda, noi siamo proprio in mezzo ed è molto conosciuto, si fermano a dormire o solamente a fare merenda o a pranzo e spesso capita che mi mostrano dei libri, degli itinerari loro scritti in tedesco dove si parla molto del rifugio passo del Vivione, della bellissima strada, di come si mangia bene al rifugio, consigliano di fermarsi. Certo, una curiosità ma una precisazione che va detta anche ai nostri amici a casa, siamo comunque in terra bergamasca? Sì, siamo ancora bergamaschi, per pochi metri comunque, siamo in terra perché proprio lì proprio subito dopo c'è il confine insomma, certo va detto anche questo, va detto anche che sia Michela sia Mario sono maestre di sci, questa dimostrazione insomma che nei mesi di chiusura del rifugio dove per certi aspetti siete liberi se così possiamo dire siete impegnati con i rispettivi sci club, tu in particolare a Livigno? Sì, io faccio la maestra di sci a Livigno e Mario fa l'allenatore dello sci club Schilpario, ma mi amo la montagna, siamo sempre in montagna comunque sia d'estate che d'inverno. Certo, pertanto insomma la montagna è il vostro vivere quotidiano sia d'estate che d'inverno e soprattutto diciamo così il condividere la passione per quella natura che lì lo dobbiamo dire, io ci sono stato un mese e mezzo fa, al passo del Vivione è veramente veramente bella. Sì, lei è stato fortunato, tra l'altro penso sia stato in uno dei pochi giorni di bel tempo di quest'estate e abbiamo degli itinerari bellissimi, un ambiente stupendo e a noi piacerebbe poterlo vivere di più, poterlo sfruttare al meglio per far sì che chi venga possa trovare... Sempre di più, insomma e soprattutto un'accoglienza ancora migliore rispetto a quella che c'è tra l'altro, rifugio, passo del Vivione che è stato ampliato recentemente, papà mi ha fatto vedere insomma i lavori che sono stati fatti proprio ultimamente. Sì, da quando ce l'hanno i miei genitori c'è da dire che ogni anno noi cerchiamo di apportare delle migliorie, di fare sempre qualcosa di nuovo e di tenerlo bene perché comunque è casa nostra e quindi ci piace che sia in ordine e ti viene in mente ogni anno di fare qualcosa di nuovo e penso che la gente lo apprezzi questo. Certo, il fatto che è una, tra virgolette, gestione familiare, questo sicuramente vi aiuta a curare di più quello che è l'aspetto del rifugio ma soprattutto gestione familiare e di proprietà e soprattutto a curare ancora un po' di più quelli che sono i rapporti interpersonali con la gente. Sì, si può dire che sono quasi tutti amici, tra virgolette, nel senso che molta gente torna, c'è anche quella di passaggio, però tantissimi sono persone che vengono, si trovano bene e poi ritornano a trovarci. La nostra cucina è sempre aperta, entrano tutti a salutare la mamma. Certamente, insomma è sempre piacevole anche perché poi, come si dice, un bel sorriso, una stretta di mano non guasta mai, se poi hai aggiunto anche un bel piatto e lì le specialità sono diverse, insomma, credo che sia ancora meglio. Ti ringrazio Michela, andiamo con Mario. Allora Mario mi diceva, prima di entrare, mi fa, io mi ricordo un po' di anni fa, sono stato ancora qui negli studi, proprio con lo Sciclub di Schilpario, giusto? Sì, sono stato qua qualche anno fa, a fine stagione, con il gruppo del CSI, che ci avevate invitato e siamo venuti a presentare la nostra stagione di gare che facciamo l'inverno, a raccontare un po' come eravamo andati. Certo, e la passione, la voglia, l'inverno si avvicina, continua, pertanto quest'anno sarete pronti via di nuovo tutti assieme per cercare di conquistare belle vittorie. Sì, siamo pronti, adesso anche tutti i ragazzi hanno voglia di partire, anch'io comunque ho voglia che arrivi presto la neve, di andare a sciare e di vedere se siamo in forma e di competere con gli altri. Ecco, visto che Schilpario è più famoso, più nota, insomma, come località, soprattutto per il fondo, lì in particolare voi dove andate a proporvi e soprattutto allenarvi e così via? Beh, noi andiamo nelle stazioni più vicine che sono Coleri, in particolar modo ci spostiamo alla Presolana, al Monte Porra. Perciò qui nelle nostre parchi. Sì, qui nelle nostre parchi, non ci allontaniamo. Certo, certo, insomma, pertanto sempre nella zona della Bergamasca e in particolare poi a Coleri che è la stazione più vicina. Sì, è la più vicina e la più comoda anche per gli spostamenti. E adesso entriamo nel vivo, adesso qui vi abbiamo fatto, diciamo, vi abbiamo presentato i nostri ospiti, le loro attività, soprattutto le loro passioni che si sposano perfettamente con la natura. Entriamo nel vivo, diciamo così, nel dettaglio di quella che è la nostra parte dedicata a questa prima edizione della Sgambada. Mario, innanzitutto come vi è venuta l'idea di organizzare una manifestazione di questo genere? Beh, io e la Michela ho un po' di anni che pensiamo di organizzare qualcosa per valorizzare il nostro territorio, per far conoscere un po' questi bei sentieri che abbiamo a Schilpario. e visto che non c'era mai stata una gara di corso in montagna a Schilpario, quest'anno abbiamo deciso di provare a organizzarla. Abbiamo sentito il Mario Poletti se ci aiutava e grazie a lui siamo partiti e siamo riusciti a organizzarla, penso, nel migliore dei modi. Ecco, tra l'altro, e questo lo posso dire perché appunto io un mese e mezzo fa, più o meno, non da Schilpario, ma da Rifugio, fino ai Laghetti è abbastanza, per me, ripida e da Schilpario a Rifugio non è che sia piana, perciò è abbastanza tosta come gara. Sì, è un bel sentiero che parte abbastanza, il primo pezzettino è abbastanza impegnativo, però ha anche un bel fondo, si riesce a correre bene, non ci sono grossi problemi del sentiero, ho ben tenuto, poi io e altri miei amici siamo passati a sistemarlo, a pulirlo bene e è uscito proprio un bel sentiero, un bel percorso. Un bel percorso e quanto misurava? Misurava attorno ai 9 chilometri. Insomma, non sono mica pochi tutti di salita. Sì, con la partenza dalla piazza, mentre di salita sono circa 8,5. 500 metri di piano e poi tutti di salita e poi una leggera discesa quando su dai Laghetti si veniva giù a Rifugio. Perciò 8 chilometri pieni pieni, tutti di salita c'erano. Vi aspettavate qualche numero in più o siete soddisfatti di come è andata? Sicuramente se c'era qualcuno in più era meglio, però come prima edizione siamo stati soddisfatti. Poi quelli che sono venuti hanno trovato una giornata stupenda, penso la più bella e calda dell'estate. Si vede dalle immagini che era quasi invidiabile non esserci, insomma. E sono stati tutti soddisfatti. Certo. Poi naturalmente grande festa al Rifugio per tutti con la possibilità di fermarsi lì, eccetera. Poi fra poco Michela ci dirà chi ha vinto, com'è andata, insomma, ma soprattutto se ci sarà un futuro. Ne parleremo nella seconda parte. Un percorso questo, secondo te, che potrà avere proprio partendo anche dal presupposto che all'inizio si deve pagare lo scotto di una gara che non si conosce, eccetera. Però come percorso, secondo te, potrebbe far gola ai veri runners? Sì, secondo me è un bel percorso, può essere anche estesa a qualcosa di più impegnativo, non solo alla semplice gara di paese come quest'anno, ma magari inserirla in un circuito e vedere di fare qualcosa di un po' più in grande. Eh, questa è una bella idea. Pertanto voi vi candidate, nel senso che se qualcuno, e sappiamo che ormai anche qui da noi, quelli di Valgoglio, eccetera, sono in tanti ad organizzare queste manifestazioni, vi candidate a eventualmente inserirvi in un contesto di una sorta di minicampionato, insomma, per coloro che amano questo genere di salite, di corse, giusto? Sì, giusto, per l'inverno siamo pronti, se qualcuno ti va a organizzarci per l'anno prossimo, potremo vedere magari di inserirla in qualche circuito. Ecco, come a fine gara avete sentito certamente i pareri, come sono stati i pareri di coloro che c'erano? I pareri sono stati, dal primo, positivi molto, da quelli che sono arrivati indietro erano un po' più stanchi, preferivano farla un po' più corta, però comunque tutti molto contenti e molto soddisfatti della gara e della giornata. Allora io posso dire, chiaramente fino al rifugio del Passo e Vivione a 1800, giusto? 1800, sì. Si sale con la vettura, la strada, anche se stretta, molto bella, tenuta anche abbastanza bene, a parte che poi tutti gli inverni, magari qualche piccola buca si crea proprio per la neve, però devo anche dire che l'ho seguita negli anni passati, soprattutto da Schilpario, proprio non fino al rifugio, però al rifugio del Passo, però a metà circa della strada, l'ho sterrato, l'ho seguito perché sono state disputate due o tre gare in mountain bike, io a seguire questi percorsi sono diversi, chiaramente perché si spostavano più verso la Madonnina dei Campelli, per intenderci, però sicuramente la montagna è quella lì e soprattutto il Belvedere è davvero quello lì. Credo che sia stata una bella esperienza. Voi che cosa avete tratto da questa prima edizione? Cioè come vostro, diciamo così, punto prefissato, sì noi vorremmo fare questo, ci siamo riusciti, abbiamo sbagliato qui e faremo meglio un'altra volta, in che senso? Io penso che quello che ci eravamo prefissati, bene o male siamo riusciti ad arrivare a quello, sicuramente servono sempre gli sponsor per aiutarti, per arricchire il monte premi, anche se quest'anno siamo riusciti comunque a dare un premio a tutti i partecipanti. Beh, perciò lo sforzo c'è stato, insomma tutti sono stati riconosciuti. Va bene, vi ringrazio, abbiamo la pausa pubblicitaria, rientreremo fra poco, andremo a conoscere un po' nel vivo quelli che sono stati i tempi, se proprio partendo da questo tempo, che io non conosco ancora, l'ho letto da qualche parte ma non me lo ricordo più, e magari partendo da qui, chissà mai che proprio anche il fatto che l'anno prossimo venga riproposta questa gara, qualche d'uno in più possa arrivare, magari qualche d'uno possa già tentare di battere questo tempo. Ne sapremo di più fra poco, state lì. Di nuovo, di nuovo in diretta, amici appassionati di sport, sport in generale, sport per coloro che amano la natura, questa sera è proprio questo che vogliamo parlarvi in questa prima parte, lo facciamo con Michela e Mario Pizio, che arrivano da Schilpario, il papà Gian Antonio, la moglie, la mamma, ma ricca, assieme ai figli naturalmente, anche se loro qualche strada diversa l'hanno scelta, visto che soprattutto nei periodi dove il rifugio non è aperto, il rifugio del Passo del Vivione, hanno scelto altre strade, ci sembra giusto così, gestiscono, dicevo, da ben 38 anni il rifugio del Passo del Vivione. E quest'anno, proprio grazie alla innovazione, soprattutto alla verva, la capacità e soprattutto anche la voglia di portare qualcosa di nuovo, sia Michela sia Mario si sono impegnati più degli altri a organizzare questa manifestazione, la sgambala, come dicevamo. Allora, certamente non c'eravate solo voi due, vuol dire che c'era un bel gruppo di amici che vi aiutava, perché da soli, da soli non si riesce a fare niente, giusto Michela? Sì, sicuramente Mario Poletti è stato un grandissimo aiuto, cioè fa questo, è il suo lavoro, chi meglio di lui poteva darci una mano nell'organizzare questa gara e poi sì, tanti amici, tanti volontari che ci hanno aiutato a pulire il sentiero, coi pulmini, a portare sugli zaini dei partecipanti, tante persone ci hanno aiutato e la presenza del Paolo Savoldelli, che anche lui è un amico, perché quando si allenava passava dal nostro rifugio, si fermava a bere qualcosa e a mangiarsi un panino, il quale ha accettato volentieri il nostro invito e addirittura è arrivato fino al suo rifugio ad accogliere i primi concorrenti. Insomma, oltre a dare il via, perché so che in bicicletta lui davanti a tutti per i 500 metri pianeggianti c'era lui, dopo oltre a dare il via lui se ne è andato sul rifugio ad aspettare i primi. Esatto. Una bella presenza, un gesto sportivo, ma sicuramente Paolo ci ha abituato a questo ed altro, naturalmente. E ci fa piacere, insomma, che tu ricordi con piacere che quando passava e saliva fino al passo del Vivione per allenarsi si fermava anche lui a degustare quello che potevate offrire. Questo era sempre un bel biglietto da visita per voi, no? Sì, sicuramente quando arrivava il Paolo, è talmente una persona semplice che si fermava a fare fotografie con tutti quelli che glielo chiedevano e fa sempre piacere vederlo. Allora, mentre vedete scorrere le immagini, qui, ripeto, un mese e mezzo fa più o meno ci sono passato anch'io al termine di una sgambada, l'ho fatta anch'io assieme al papà che mi ha portato in giro. Anzi, devo essere sincero, perché a me piace raccontare la verità e voi lo sapete. Io sono partito almeno tre quarti d'ora prima e lui ha calcolato bene i tempi, mi ha detto quando arrivi al lago di Valbona, dove c'è il lago fatto a cuore, che poi lì abbiamo ricamato una bella storia, insomma, ci sta anche quello. Poco prima che tu arrivi lì ti raggiungo, ho detto come farà a capire che io lì ci impiego? E infatti noi stavamo arrivando a 30 metri dal lago e papà è arrivato di corsa, assieme al suo fido cagnolone, è arrivato lì e poi ci ha portato i laghetti, che sono stati la meta più alta della gara della sgambada, giusto? Esatto, sì. Ecco, questa gara, Michele, la possiamo classificare più corsa in montagna forse che runner, no? Giusto? Sì. E più corsa in montagna, perché non salvo forse su in cima proprio dove c'è il passaggio, ma non c'è, non ci sono dei passaggi particolari, pericolosi, insomma. No, il percorso comunque era un percorso adatto a tutti, sicuro e fattibile da tutti. L'obiettivo era quello di portare tanta gente sulle nostre montagne che vedessero quanti bei paesaggi abbiamo, quindi era un percorso semplice. Certo. A proposito di questo vorrei che tu ti soffermassi, ho detto prima, ci abbiamo ricamato una bella storia, su questo lago che è dall'alto, perché fino a metà circa non riesci a valutarlo bene, dall'alto c'è questa forma di cuore. Nessuno l'aveva mai notato, poi è nata questa storia, insomma, il lago a forma di cuore, eccetera, eccetera. E da lì dobbiamo dire che forse, magari usando, copiando un pochettino anche, e tu me lo insegni, sei a Livigno, un posto dove qualsiasi parola in più fa turismo in più, eccetera, gli stessi, lo stesso Trentino, insomma, dove per carità c'è, che so io, un sasso fatto in un modo piuttosto che un altro, diventa un'attrazione. Ecco, forse bisognerebbe proprio battere su certe cose e creare una storia, una piccola storia, intorno a questi che sono luoghi naturali e che meritano di essere comunque scoperti, no? Ma qui siamo già avanti, perché già due anni fa abbiamo tracciato e ideato il trekking dei cuori blu, perché il lago fatto a cuore non è solo uno, ma sono bensì tre. Più, sì, esatto. E addirittura dall'alto, se tu avrai notato il lago di Valbona, lì vicino c'è una costruzione di pietre, quei recinti che usavano una volta per mettere le mucche e le pecore, anche quella ha la forma di un cuore. Certo, sì, sì, me la ricordo benissimo, anche perché è stata veramente faticosa per me, e naturalmente non per chi è abituato ad andare in montagna, però è stata una bellissima escursione e dall'alto, proprio dove c'è lo scollinamento per andare agli altri laghetti, eccetera, lì si gode veramente di un panorama incredibile, dobbiamo dire. E c'è questa forma di cuore che tra l'altro, dicevi, siamo già avanti col trekking, perché mi pare che anche qualcuno ben più importante del sottoscritto ci abbia ricamato una bella storia, lì, no, chi arrivava dal Trentino, eccetera, mi diceva il papà, che è arrivato un famoso giornalista e diceva, insomma, avete qui delle bellezze naturali e dobbiamo soltanto valorizzarle, ecco, così mi spiegava, ecco il perché ho tirato fuori questa storia che effettivamente, perché effettivamente dobbiamo dire come del resto la Presolana, per carità, e del resto la Val di Scalve, non ha nulla, diciamo, non ha nulla da nascondere, anzi in meno rispetto a tanti luoghi del Trentino. Loro forse ne hanno più, sono più uno, invece di essere due, tre, ne hanno sicuramente di più, però loro hanno questa spinta in più per valorizzarle, hanno queste manifestazioni che coinvolgono, che magari costano anche fatica, ma sono sicuramente manifestazioni che aprono un po' il territorio a tutti, no, sotto l'aspetto della visibilità. Sì, sicuramente non abbiamo nulla da invidiare a posti come il Trentino, come dicevi tu, dovremmo imparare a valorizzarli molto di più, perché è questo che fanno gli altri posti. Certo. Visto che abbiamo delle montagne bellissime, ecco, impariamo a valorizzarle, a farle conoscere. Certamente. Adesso parliamo della gara, ritorniamo ancora alla gara, a noi piace anche divagare, perché in fondo, in fondo, poi qui siamo qui, è vero, per parlare della gara, però non è che si fa domenica prossima, è già stata fatta, e allora parlare di una gara che è già stata fatta risulta più facile. Però cercare di valorizzare quello che è un percorso bello, perché da Schilpario al Passo del Vivione sicuramente chissà in quanti di voi l'avranno fatto, magari anche a piedi, oppure anche con la propria automobile, però sicuramente il tracciato, il percorso alla strada stessa è molto bello anche da percorrere. E allora parliamo della gara, perché questo giovane, che tra l'altro è un giovane di Schilpario, se non ho capito male, è rimasto con questi 9 chilometri e è restato sotto l'ora di gara, giusto? Esatto, il vincitore della prima edizione della Sgambado, Pietro Lenzi, è arrivato al traguardo con un tempo di 54 minuti e 50 secondi. Insomma, è un bel tempo. È stato bravissimo. Calcolando, eccolo qua, mi pare sì, infatti è lui che taglia il traguardo, calcolando che sui 9 chilometri diciamo, nel percorso, 8 erano tutti in salita, pertanto è sicuramente un bel andare. C'erano anche delle, ho visto prima delle fotografie, ho conosciuto quella ragazza, quella signora che era stata ritratta, c'erano anche delle donne. C'erano anche delle donne, erano 6 partecipanti, le donne. Al primo posto Nives Carobbio. Eccola, infatti. Penso che sia conosciuta. Conosciuta nell'ambito della corsa su strada, in particolare gareggia tutte le gare, la conosco benissimo, è stata anche qua a Clusone quando hanno fatto la Corri nei Borghi qua a Clusone, pertanto è una che arriva sempre fra le prime. Nonostante, mi perdonerà se lo dico, non dico l'età Nives, però non sia più giovanissima, però è una che si difende veramente molto bene. La domanda è naturalmente questa. Secondo voi, secondo te in particolare, che cosa avete tratto da tutto questo? Avete pensato si potrà fare, cosa si potrà fare per la seconda edizione? Ammesso che sia, per voi non sia troppo un lavoro, visto che avete il vostro compito già tutta la settimana sul rifugio, che non sia troppo gravoso. non solo nell'organizzazione. Sicuramente l'idea è quella di ripeterla l'anno prossimo, su questo non c'è ombra di dubbio. Quest'anno ci ha aiutato tantissimo il tempo innanzitutto e poi ecco avere gente che ci ha dato i consigli giusti e ci ha supportato. l'anno prossimo potremmo cercare nuovi sponsor più grossi e con quello probabilmente è tutto più facile. Ampliare un pochettino l'orizzonte in questo senso. Tra le altre cose, sapete chi faceva parte della sessantina di partecipanti? c'era anche un certo Giulio Capitanio, come a dire insomma che la voglia, la passione, la voglia di far fatica non muore mai, ma Giulio sappiamo che è molto superiore a tutto questo, è vero? Esatto, c'era Giulio Capitanio, sempre in formissima, reduce dalla gara di Schirol. Che dobbiamo aprire una parentesi, non l'ha fatta, era lì come invitato perché siamo stati a cena la sera prima, siamo stati sul traguardo a parlare proprio il giorno della gara stessa, insomma, però insomma Giulio, eccolo l'inquadrato, assieme non conosco quel signore che è lì in parte, ma Giulio lo conosciamo tutti. Era un aiutante. Sì, Giulio c'era ed è sempre insomma anche un trascinatore, giusto? Sì, sicuramente Giulio ama tantissimo la montagna, gli sport in generale, c'è sempre, se tu vai a fare un giro in montagna sei sicuro che lo incontri Giulio. Certo, ha partecipato anche Fabio Mai magari? Fabio non c'era, non c'era. Ha dato una mano nella sistemazione del sentiero con Mario, però non c'era quel giorno. Certo, sarà stato in giro, probabilmente impegni di lavoro, e chissà mai impegni soprattutto, visto che adesso lui è anche allenatore di una squadra di sci nordico, e allora eccolo impegnato naturalmente. Fabio Mai che quel giorno che il papà Gian Antonio mi ha portato in giro il suo vedere i laghetti, noi l'avevamo visto salire verso il passo del Veneroccolo, insomma da lontano, e andava come da par suo, come del resto è giusto che sia, perché Fabio ha ancora un grande passo. è chiaro, che cosa, la difficoltà maggiore nell'organizzazione di quest'anno, e secondo voi qual è quella da superare, quella che magari potrà aiutarvi in più a credere ancora di più in questo vostro progetto che è iniziato quest'anno, Mario? La difficoltà maggiore organizzativa qual è stata? No, diciamo che di grosse difficoltà non ce ne sono state, certo, organizzare una competizione, una manifestazione non è semplice, però siamo partiti in tempo, come abbiamo detto, con le persone giuste che ci hanno dato una grossa mano, siamo riusciti abbastanza bene nell'organizzazione. Ecco, non c'era bisogno di permessi dei comuni, niente, per passare? Per passare sui sentieri, no, non c'è bisogno. Ci sono bisogno dei permessi, era da sistemare il sentiero, però grazie ai volontari, agli amici, siamo riusciti a sistemarlo bene, in un paio di giornate l'abbiamo pulito e sistemato, e per le prossime edizioni speriamo sempre di aumentare il numero. Certo, una curiosità, perché io mi ricordo di essere stato, tra l'altro credo che voi avviate comunque un buon rapporto con Silvio Visini e con il suo rifugio, non mi ricordo più come si chiama. Cimonte della Vagozza. Cimonte della Vagozza, scusami, mi è uscito di mente, e mi ricordo un anno di essere salito da dove, sì, perché c'era la neve d'inverno, dove si lascia la macchina e praticamente aver preso il sentiero perché andava fino al Cimonte della Vagozza a piedi, che tra l'altro io pensavo fosse una passeggiata, invece è abbastanza lungo. Ecco, dimmi perché si può scoprire questa zona anche d'inverno, anche quando c'è la neve, tra l'altro senza pericoli, perché non ci sono dei grossi pericoli passando nei sentieri, eccetera, perché ci sono tante piante, dunque non credo che ci sia, certo ci vorranno magari le ciaspole o qualcosa del genere, però... Sì, l'inverno se si va appena nevicato conviene avere le ciaspole, però si parte dai fondi... Dai fondi, bravo. In un'oretta tranquillamente si arriva alla località Cimabosco, lungo la strada, è un panorama bellissimo, meraviglioso, quella è una zona dove nevica tanto, come quest'inverno, c'erano tutti gli alberi coperti dalla neve, è veramente uno spettacolo l'inverno. Volevo proprio arrivare lì perché con la stagione che ha fatto dopo i 1500 metri, oltre i 1500 metri nevicate, quanti metri, perché il papà Gian Antonio me l'ha detto nell'intervista che gli ho fatto, quanti metri di neve c'erano a rifugio? Beh, quest'inverno... Stimati. Ci saranno stati 10-11 metri di neve. Al rifugio? Al rifugio, sì. Pertanto è impossibile anche andarci vicino, insomma, voi salivate? Noi siamo saliti, io sono salito verso la fine di febbraio, ma si guardava dalle finestre del primo piano, la porta non si vedeva neanche. 8-9 metri di neve? Sì, tranquillamente. Tranquillo. Ecco, lì, quando nevica così tanto, non c'è un pericolo per il rifugio, la struttura, eccetera, no? È abbastanza solida? No, è abbastanza solida, comunque, negli ultimi anni, l'anno scorso abbiamo rifatto il tetto, abbiamo... Lavorato. Lavorato bene, abbiamo messo i legni belli alti per non rischiare di trovarlo rotto. Ecco, è stata, secondo te, ti ricordi, è stata un'annata eccezionale la nevicata dell'anno scorso o capita spesso ai 1800 metri? Beh, in alto si sa che nevica sempre parecchio, però l'anno scorso, come l'anno scorso, erano un po' di anni che non si vedeva così tanta neve. Benissimo, ti ringrazio, una battuta ancora con Michela, poi ti lascio andare, che aria si respira, Livigno? Adesso partirai, fra poco, poi resti su, torni giù, cosa fai? No, io da fine novembre, poi sono su fino a metà maggio, l'aria è bella fresca, si respira. Però sei sempre in sua quota 1700, 1800, io non mi abbasso mai. Come tanto, insomma, riesci a respirare a pieni polmoni, diciamo così. C'è ancora quel flusso turistico che c'era una volta, Livigno? Eh, sì. Sì? C'è ancora gente che va, che viene? Sì, quando noi là, diciamo, c'è poca gente, comunque non è mai paragonabile alla poca gente nostra qua. ci sono tanti stranieri e comunque vengono sempre, si scia, ci sono delle belle piste, c'è tutto, più che le belle piste, non solo, c'è tutto il resto, il divertimento, i negozi, bar, tutto quello che uno vuole e i turisti lo apprezzano. Ma è una scelta la tua, quella di essere, lavorare a Livigno come maestra di sci, no? È che magari potevi o puoi lavorare anche un po' più vicino, è una scelta tua? Sono 16 anni che sono là all'inizio, è stata proprio una scelta e adesso direi scelta barra necessità, nel senso, io faccio solo quello d'inverno e quindi qui nelle nostre zone non c'è una stazione scistica che mi permetterebbe di fare solo la maestra di sci. Certo. E vabbè, è un bel posto poi, adesso io dico così, poi non so quando deciderò di non andarci più se ce la farò. Ti sei anche innamorata del posto, insomma, diciamo. Sì, sì, sì. Perché si fa presto poi anche innamorarsi, ma vedi, il vino lo sappiamo è una meta importante per tantissimi voi perché forse un po' più di tempo fa c'era una buona convenienza per tante cose, adesso c'è ancora un po' di convenienza magari non così, la forbice non è così allargata come era per il passato, però è comunque sempre una buona stazione soprattutto invernale ma anche estiva per passarci qualche giorno di vacanze. io la mia nipotina Barbara ti saluto e lei va una volta, due volte e due volte all'anno, una settimana all'inizio dell'estate e una settimana verso la fine. Beata lei che se lo può permettere. Benissimo, concludiamo qui, mi ha fatto piacere portare a vostra conoscenza questi due ragazzi che ci hanno raccontato la loro prima esperienza come organizzatori di una gara, di una corsa in montagna, chiamiamolo così, o runner come preferite, però la voglia attraverso l'organizzazione di questo evento che ci auguriamo possa ripetersi l'anno prossimo di far conoscere i posti dove loro vivono, Schilpario, la zona del Passo del Vivione, i laghetti della Valle che sono davvero belli e tutta quella zona che dai 1800 sale fino ai 2002-2003 perché fino al Passo del Gatto siamo al Passo del Gatto 2004, giusto? 2004, sì. 2004, insomma voi sapete che poi dal Passo del Gatto è un mio vecchio sogno non si realizzerà mai ahimè quello di andare a trovare il grande Francesco al rifugio Tagliaferri che è anche un carissimo amico non mi sente perché lui chissà dove è a quest'ora però saluterei volentieri anche lui però chissà mai che magari ci torni l'ultima volta ci sono stato un po' più in maniera comoda e non si sa mai che magari ci torni anche questa volta concludiamo qui comunque mi ha fatto dicevo piacere portare a vostra conoscenza tutto questo se vorrete parlare soprattutto adesso anche ormai la stagione sta chiudendo anzi non avete ancora chiuso il rifugio no, fino a domenica ci siamo ancora tutti i giorni poi vediamo un po' com'è il tempo insomma per il momento comunque a 1800 non nevica ancora non nevica ancora purtroppo però siamo al mattino non ci sarà tanto caldo caldo non so quanti gradi ci sono c'è stata qualche mattina che era sotto zero però adesso sui 3-4 gradi però comincia già ad andare sotto zero sì, alcune mattine si è già andata perciò se era nuvola sotto zero siamo pronti per la prima medicata va bene visto che è il vostro pane quotidiano anche quello insomma auguriamoci che sia una stagione regolare che soprattutto non sia come quella estiva che è stata davvero disastrosa questo lo possiamo dire non soltanto per voi ma credo per tutti coloro che fanno il vostro lavoro vi ringrazio un caro saluto grazie a te Antonio e Amarica e speriamo di sentirci ancora naturalmente e soprattutto magari per la prossima stagione vedere se riusciamo a pubblicizzare un attimino quella che è questa manifestazione e che possa prendere piede come giusto che sia grazie buona stagione invernale a tutte e due grazie e noi ci fermiamo qui salutiamo i nostri ospiti fra poco entreremo in studio con Roberto Amaglio andremo a parlare con lui di ciclismo due ruote non so se c'era Paolo Savoldelli non credo ieri però c'erano tanti campioni lì al giro del lago di Endine da Casazza a Casazza 22-23 km con anche qui delle buone performance ma poi soprattutto con tanta tanta allegria che è poi quella che non guasta mai ne parleremo fra poco